Il progetto di durata triennale denominato Teatro delle Armonie è iniziato lo scorso anno e vede impegnata una classe della scuola media Nazareno-Strampelli. Diciamo che siamo arrivati un po' al giro di boa, come l'anno scorso la prima parte dell'anno scolastico che va da metà settembre a metà dicembre è dedicata a tutta la fase laboratoriale e quest'anno in particolare ci siamo dati poi uno schema che i ragazzi seguivano con delle schede. Questo è stato un sistema interessante perché abbiamo avuto dai ragazzi dei feedback, cioè alla fine di ogni lezione gli veniva consegnata una scheda nella quale loro potevano registrare sensazioni, anche cose che avevano ben compreso, cose che avevano compreso meno o comunque il loro punto di vista su certe tecniche o su certi aspetti della vita teatrale. Abbiamo trovato molte sorprese, molti spunti e abbiamo forse in questo modo conosciuto anche meglio i ragazzi della classe. I ragazzi rispondono bene, rispondono prima di tutto con la loro vivacità, vanno sempre giustamente tenuti a bada, il teatro ha sempre quella componente di gioco che a loro li coinvolge chiaramente maggiormente, però poi viene sempre il momento della disciplina, dell'eseguire determinate cose e quindi il teatro ci aiuta a mettere insieme queste due cose, cioè un momento anche di gioco, di stare insieme, di condividere ma anche di rispettare regole, accettare una disciplina, eseguire dei compiti, quindi continua il percorso di formazione teatrale ma principalmente umana che è quella che poi alla fine ci interessa di più. È un progetto che ha una durata triennale e coinvolge un'unica classe dell'istituto che sviluppa questo progetto appunto per tre anni, sviluppando ogni anno un'attitudine particolare. hanno già lavorato l'anno scorso, quest'anno continuano sviluppando la dizione, la recitazione, la presenza scenica e continuerà anche l'anno prossimo. È un progetto che si sviluppa per circa 64 ore durante l'anno e vede i ragazzi coinvolti due ore alla settimana. A termine del corso i ragazzi si esibiranno in una rappresentazione teatrale nell'ambito della rassegna Il dialetto delle armonie, in programma al Teatro Manzoni di Castelraimondo nei prossimi mesi di febbraio, marzo ed aprile. E proprio a proposito di questa rassegna, organizzata dalla Compagnia Teatrale Valenti di Treia in collaborazione con il Comune di Castelraimondo, Comunità Montana Altevalli del Potenza e dell'Esino, giunta quest'anno la quarta edizione, fervono i preparativi nella cittadina dell'Alto Maceratese. Ma sì, stiamo predisponendo il tutto, siamo soddisfatti per quello che è successo negli anni passati quindi l'augurio è che anche quest'anno ci sia quella presenza di pubblico che abbiamo riscontrato l'anno scorso anzi, lo spieghiamo, sembra una maggior presenza, questo sta a significare che questa nostra proposta interessa ai nostri concittadini e non solo perché poi ultimamente abbiamo avuto anche molti spettatori che sono venuti dalle città vicine, quindi questo ci fa immensamente piacere e ci ha spinto a riproporre anche quest'anno questa importante rassegna, quindi ringrazio la Compagnia Valenti che ha voluto portare avanti anche quest'anno iniziative insieme ai vari sponsor, quindi Comunità Montana, sponsor privati e la provincia. Ormai per il secondo anno stiamo portando avanti un'iniziativa rivolta ai giovani, quindi c'è una classe delle nostre scuole che stanno facendo un corso di teatro, l'anno scorso ha avuto un grosso successo e quindi quest'anno non abbiamo potuto fare a meno di riproporlo, ma questo è importante per abituare i nostri piccoli a fare dello spettacolo, a interessarsi anche di questa possibilità che gli viene concessa per potersi esprimere, per stare insieme, per crescere la loro cultura e il loro modo di presentarsi. Siamo in fase di definizione della quarta rassegna del deletto delle armonie che partirà da febbraio che sarà come negli anni scorsi incentrata nel dialetto e speriamo che come gli altri anni ci siano numerose persone che vengono perché si passano due ore in serenità, in tranquillità e si ride. Quindi l'augurio di un anno sereno può essere ben speso venendo a Castelra e Mondo a partecipare a questa rassegna e sono sei le serate che verranno messe in campo, come dicevo, da febbraio 2015. La prima data è il 21 di febbraio, poi si procederà con il sabato 28 febbraio e saranno quattro le date di marzo, il 7, il 14, il 21 e il 28 marzo. Tutto pronto, ci saranno sei spettacoli, le compagnie saranno selezionate tra quelle che riteniamo, reputiamo e che hanno dimostrato anche di essere le migliori o che presenteranno le opere più interessanti. Ritornerà anche quest'anno la compagnia del nuovo teatro di Terni, che l'anno scorso presentò una commedia molto spassosa e il pubblico l'apprezzò moltissimo. Speriamo che cresca anche il numero del pubblico, negli ultimi anni questo dato è stato sempre costante, in crescita noi stiamo lavorando per fornire una rassegna che sia all'insegna della qualità, come l'abbiamo impostata fin dall'inizio e come le impostiamo anche altrove. È evidente che la qualità della rassegna fa anche la differenza rispetto a tanto altro che si può cercare e trovare in giro. Anche il progetto della scuola media sta andando avanti, così come l'avevamo un pochino ipotizzato. Ringraziamo per questo tutti coloro che hanno reso possibile anche questo progetto, in particolare si chiama Comune, Amministrazione Comunale, si chiama Comunità Montana, o Unione Montana adesso, come si è trasformata, delle altivalle per potenze dell'Esino. È evidente che è un investimento sui giovani, sulla formazione dei giovani, riteniamo che sia un'iniziativa molto valida, al di là della parte ludica, spettacolare e finale, che sicuramente ha un interesse, ma il percorso, la formazione che i ragazzi incontrano durante questo periodo scolastico, anche insieme con gli insegnanti curriculari, riteniamo, siamo sicuri insomma, che è la cosa più importante del progetto.